Benvenuti a L'Alba del Futbol, l'unica rubrica sportiva per la quale il calcio italiano è finito nel 1935 quando il retrocesso inseribì la Pro Vercelli e dopo non ha più senso comunque oggi puntata molto importante su una squadra molto importante la Pro Vercelli allora la Pro Vercelli entra nel calcio italiano come una diversa, come un outsider una squadra diversa da tutte le altre squadre italiane perché come erano tutte le altre squadre italiane? tutte le altre squadre italiane erano inglesi in che senso? Mi spiego il calcio italiano è nato inglese cioè il Milan si chiama così perché Milan vuol dire Milano in inglese il nome completo del Milan è Milan Football and Cricket Club il Genoa si chiama così perché Genoa vuol dire Genova in inglese il nome completo del Genoa è Genoa Cricket and Football Club addirittura prima cricket di football capite oppure chi non era inglese era Nobile c'era una squadra di Torino fondata nel 1889 che si chiamava Nobili Torino e la Nobili Torino era esattamente quello che si può presupporre dal nome era una squadra di Nobili di Torino non eri Nobile? non eri di Torino? non potevi giocare nella Nobili Torino non so se mi spiego la Pro Vercelli è una squadra diversa da tutte non è fatta di Nobili non è fatta di Inglesi è fatta di Italiani è fatta di gente di Vercelli ma non è neanche espressione di una grande città di un capoluogo di provincia all'epoca Vercelli non è capoluogo di provincia è sotto la provincia di Novara comunque anche Novara non è che sia la città comunque sono persone comuni sono non nobili sono come dire plebei ma fanno una squadra di calcio e nel 1908 partecipano al campionato di massima divisione al campionato di Serie A ora voi capite voi capite stando così le cose il calcio all'epoca era quello che non so oggi potrebbe essere non so mi viene in mente il Polo sai il Polo quello che si gioca a cavallo con le mazze d'Apolo ora non so se si giochi a Polo in Italia se ci siano dei club ma uno che gioca a Polo in Italia che è o è un inglese mi viene da dire o è un nobile o un ricco o tutte e tre le cose contemporaneamente immaginate che oggi ci sia una squadra di Polo di Rovigo ma cosa sono degli inglesi che abitano a Rovigo? no è della Getty di Rovigo ecco questi qui arrivano al campionato di massima divisione e e e cosa ancora più sconcertante il primo anno che giocano nel campionato di Serie A vincono la Provercelli la Provercelli vince il campionato di Serie A del 1908 sono diversi da tutti gli altri sono rubi sono plebei sono atletici giocano coi muscoli giocano sudando c'è una frase di un calciatore dell'epoca della Provercelli si chiama Guido Ara e la frase è il calcio non è uno sport da signorine il calcio non è uno sport da signorine per noi oggi è quasi un luogo comune è una frase fatta è una cosa che abbiamo sentito tutti ma allora allora secondo me doveva essere una frase abbastanza sconcertante un po' spiazzante come dire non so il polo non è uno sport per signorine il golf non è uno sport per fighetti comunque comincia il predominio della Provercelli nel 1910 la nazionale di calcio italiana esordisce e com'è la prima maglia della nazionale italiana è azzura è bianca molti pensano che sia bianca in onore del massimo vanto del calcio italiano la Provercelli ma vanto o non vanto maglia o non maglia la Provercelli è il calcio italiano mi spiego nel 1913 la nazionale di calcio italiana gioca contro la nazionale scozzese bene di 11 giocatori di 11 giocatori 9 sono della Provercelli e 8 di questi 9 non sono semplicemente della Provercelli no no sono proprio di Vercelli avete capito dal 1908 al 1922 cioè in 14 anni la Provercelli vince il campionato di calcio italiano ben 7 volte 7 volte 7 volte in 14 anni avete capito il predominio avete capito la supremazia cioè diventano diventano il Real Madrid e c'è un punto di contatto con Real Madrid naturalmente è la maglia bianca bianca una maglia che non era come le maglie dei giocatori moderni era una maglia con una spesa di colletto era una 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 polo appunto e poi cosa succede è la prima squadra di calcio anzi l'unica squadra di calcio italiana ad essere plurititolata aver vinto il campionato più volte pur non essendo espressione di una grande città di una di un capoluogo di provincia e poi cosa succede perché dopo il 1922 la Provercelli non vincerà mai più un campionato e cosa succede cosa succede succede che in quegli anni i calciatori pretendono stipendi più lauti pretendono di essere pagati di più pretendono di fare i professionisti e la Provercelli è categorica no 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 ragazzi no ragazzi il calcio si gioca col cuore il calcio si gioca per l'orgoglio della bandiera per fare grande la propria città il calcio non è un lavoro il calcio non è un mestiere non si va nella squadra che paga di più non si è professionisti di calcio no è così il baluardo della difesa della Provercelli Virginio Rosetta nel 1923 viene comprato dalla Juventus il presidente della Juventus era Edoardo Agnelli appena diventato presidente della Juventus il patron della Fiat aveva grande disponibilità economica paga Rosetta la somma vertiginosa per l'epoca di 50.000 lire 50.000 lire e Virginio Rosetta è ricordato ancora oggi come il primo professionista del calcio italiano e poi e poi agli anni delle vacche grasse seguono gli anni delle vacche magre la Provercelli non vincerà mai più un campionato sarà un lento graduale inesorabile declino ma mai in questo declino avrà la sua più alta luce il suo più grande campione si rivelerà e giocherà in questi anni agli inizi degli anni 30 un talento straordinario il più grande calciatore della Provercelli uno dei più grandi calciatori italiani uno dei più grandi calciatori di sempre Silvio Piola Silvio Piola era un centravanti un attaccante un talento straordinario dice di lui un commissario tecnico era talmente bravo sia col destro che col sinistro che non ho capito se fosse Destorso o Mancino straordinario di colpi di testa ancora più grande nelle acrobazie nelle rovesciate fisico longilineo alto slanciato ma veloce e scattante come sono solitamente solo i giocatori di bassa statura e cosa accadrà a Silvio Piola Silvio Piola faceva gola molta gola a squadre ormai più ricche e più forti e viene ceduto dalla Provercelli alla Lazio nel 1934 il grande Silvio Piola 274 gol in Serie A il record imbattuto di gol nella Serie A in una sola partita 6 gol in una Provercelli Fiorentina 7 a 2 del 1933 6 gol di Silvio Piola nel 1934 viene venduto come dicevo alla Lazio nel 1935 la Provercelli retrocede in Serie B ora la storia della Provercelli ci può dire molte cose molte cose una è questa cosa di Silvio Piola che spesso gli eroi arrivano nei momenti bui nei momenti di decadenza non nella massima luce c'è un fulgore c'è una luce quando la luce declina l'altra potrebbe essere l'altra morale che i soldi rovinano tutto che i soldi rovinano tutto che il denaro tutto corrompe tutto svilisce tutto manda alla malora che uccide i sentimenti uccide il romanticismo questa è un'interpretazione un po' come dire comunista però ci può stare ma mi viene un'altra riflessione un'altra riflessione mi viene cioè se c'è ci sono delle cose affascinanti nello sport sono due cose sono particolarmente affascinanti nello sport una è l'ascesa di chi è piccolo di chi è outsider di chi è umile che raggiunge la vetta come viene mostrato non so nel film Rocky con Sylvester Stallone e l'altra cosa affascinante l'altra cosa che fa battere il cuore è il declino di un grande campione come avviene in toro scatenato con Robert De Niro ecco la Provercelli ha vissuto tutte e due queste vicende nel giro di pochi anni di pochi decenni è il Rocky scatenato del calcio italiano le ha vissute tutte e due tutte e due la Provercelli e ci dice almeno due cose ci dice non abbatterti anche se hai umili origine se sei piccolo se sei debole non abbatterti perché persino la Provercelli è arrivata dove è arrivata e viceversa se sei sulla cresta dell'onda se le cose ti vanno bene se sei in una posizione di vantaggio e di rigoglio non insuperbire non pretendere insomma non dar per scontato che questo sia per sempre non darti troppe arie stai sempre accorto stai mantieni un basso profilo perché persino la Provercelli poi è andata a finire come è andata a finire la Provercelli un simbolo potentissimo del calcio italiano insomma del calcio è tutto prossima puntata dell'alba del football un'altra squadra molto divertente molto divertente da raccontare il Milano un'altra squadra